ciao a tutti ragazzi siamo gli evo cousin e io sono davide e io sono simone benvenuti ragazzi finalmente hanno rilasciato il primo snack pic allora andiamo a vedere subito come potete vedere cioè adesso non vedete niente no però tra poco ecco ci sarà la novità ragazzi novità lighting spell livello 7 quindi fulmine livello 7 molto potente direi un'introduzione che non so a cosa stanno puntando forse quello che posso dirvi mentre vedete appunto il fulmine adesso ok secondo me stanno puntando diciamo a bilanciare un po gli attacchi diciamo terreni e quelli aerei appunto hanno introdotto nello scorso giornamento i draghi livello 5 hanno introdotto il volano che non so che cazzo è insomma adesso con appunto queste queste nuove diciamo questo potenziamento di queste pozioni fulmine secondo me vogliono andare a bilanciare appunto questo difetto secondo me hanno fatto la cagata di mettere le bolle sui depositi adesso hanno detto come potete vedere due fulmini non bastano per distruggere un'area all'otto però al 7 sì però sarà disponibile sicuramente con municipio livello 10 quindi per forza ci saranno le difese aeree all'otto quindi potrebbe essere una combinazione giusta con due fulmini e una pozione terremoto ora bisogna vedere bisogna vedere se la pozione veleno sarà diciamo all'altezza di questa pozione chissà che cosa sarà più che altro io vorrei capire sinceramente ora come verranno usate queste nuove pozioni stavo dicendo che secondo me possiamo vedere che è cambiata anche la grafica no appunto è lascia anche i buchi per terra insomma rocce che partono secondo me volevano bilanciare un po questa cosa perché vedere è strano vedere a diciamo tipo che ne so io a livello ad esempio 4500 trofei a vedere attacchi solo draghi attacchi mongolfieri diciamo al massimo che si vede c'è almeno quello che spesso si vede sono golo lava luna ad esempio con golem lava hound e mongolfiere secondo me quello che mi preoccupa però è che cosa metteranno cioè questo è il primo snack pics adesso voglio vedere che cosa mettono in questo aggiornamento io sinceramente sono abbastanza preoccupato perché sinceramente non me l'aspettavo in un potenziamento siamo avvicini al full max ricordo ragazzi con i due account con lemon vodka e ryan siamo avvicini al full max e loro cosa fanno ancora potenziamenti perché è giusto così allora ragazzi per questo video è tutto ci scusiamo per il video corto però dovete capire che ne usciranno un bordello ragazzi appuntamento per domani quindi tre video di fila perché penso ci saranno intorno ai tre snack pic uno al giorno penso proprio di sì speriamo quindi ragazzi allora speriamo di così bello speriamo scrivete sotto nei commenti ragazzi diteci secondo voi cosa potranno mettere quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace commentate sotto come vi ho già detto noi ci vediamo in un prossimo video bello a tutti